L'aveva sottolineato anche Cesare Prandelli, nell'intervista esclusiva concessa a Telenord e andata in onda nell'ultima puntata di We Are Genoa, basta scorrere la formazione di domenica scorsa per trovare la bellezza di 6 under 23 nelle fila di un grifone sempre più green Tutti giovani ma soprattutto tutti protagonisti con la maglia rosso-blu e, anzi, al centro del progetto di Cesare Prandelli, in tutte le zone del campo Radu fra i pali, Pereira e Romero in difesa, Rolonna a centro campo e la coppia Koua-Mesanabria in attacco Una vera e propria ossatura di squadra, insomma. E non è un caso se molti di loro sono immediatamente entrati nei radar delle big italiane ed estere A suon di grandi prestazioni, di golle di parate, i sei gioiellini rosso-blu hanno convinto il tecnico ma anche la tifoseria genoana, fino all'apoteosi di domenica contro la Juventus Una pattuglia di giovani, guidati e condotti magistralmente da un gruppo di, veterani, capitanati da giocatori del calibro di Mimmo Crescito, Pandev, Sturaro La nostra intenzione è anche quella di lanciare un messaggio All'esterno ha detto il DS Rosso Blu Mario Donatelli alla Gazzetta perché una scelta come quella fatta dal Genoa, nel calcio estero è un'abitudine consolidata anche per molti top club Andate a vedere l'anno di nascita dei giocatori in campo con la maglia del Ajax, quelli che hanno battuto il Real, e scoprirete quanti giovani fossero stati schierati